benissimo eccoci di nuovo siamo pronti per il nostro dolcetto con la ricottina di bufala i nostri figli le noci e i mirtilli un pochino un cincini di miele appena appena miele d'arancia in questo caso quindi ecco la nostra ricotta la mettiamo in un recipiente e la lavoriamo ci mettiamo un goccettino di rum di fantasia che ci sta bene il rum con la ricotta il miele noi utilizziamo un piccolo metteremo appena appena un pochettino di miele e i nostri figli sono già dolci quindi non è che profumo il miele quindi ecco due coppette due coppe di mettiamo appena un cucchiaino di miele è più che sufficiente mi raccomando e mettiamo i nostri figli pezzettini ciao emi ecco qua i nostri figli sono dolcissimi questi figli veramente ottimi senza farvi troppo piccoli sentiamo quando ci arriva il gusto in bocca dobbiamo percepire che si tratta di ok mettiamo un pochino di noci danno che croccantezza piatto spezzettiamo così grossolanamente ecco qua adesso il dolcetto è bello è pronto prendiamo due coppe eccole qua ciao frank ciao giuseppe e siamo pronti è fatto in una velocità unica ecco bene pronte qui mettiamo i figli anche sopra qualche noce bello ricco eh questo è un pranzo non è un dessert potete metterne anche un pochino di meno dipende dal pranzo che fate o dalla cena che fate per come la vedo io questo è già un pranzo bello e completo eccoci qua a posto terminato eccole qui benissimo grazie dell'attenzione buonasera da tutti e ai prossimi video vi prometto che con l'autunno specialmente potremo sbezzarrisci un pochino di più quindi delle pietanze un pochino più elaborate un pochino più sostanziose ciao frank per questa sera abbiamo fatto vi do un bacio un abbraccio io vado a cenare con quello che ho preparato quindi grazie di tutto e buona serata ciao ciao alessandro ciao a tutti buona serata a tutti ciao a tutti ciao a tutti